hanno fatto fare uno spot sulla scuola sulla scuola al grande professore di sinistra che alla fine ha pisciato addosso a tutta la sua carriera andando al festival di Sanremo vabbè ma come vi ho detto io le palle si vedono alla lunga distanza gli hanno fatto fare uno spot per appassionare un po' di più ai ragazzi alla scuola peccato che allo spot gli hanno fatto fare in una scuola tedesca a Milano, nell'istituto tedesco dove lì ci sono i campi da tennis c'è il campo, c'è tutto cosa che nelle scuole italiane non le vedrai neanche fra mille anni peccato, hai gannato un'altra volta professore 71